Siamo favorevoli, lo abbiamo detto in tutte le riunioni che siamo favorevoli a una tregua umanitaria, infatti adesso si sta organizzando l'uscita della striscia di Gaza, stanno già uscendo i primi, quello 500 oggi, mi auguro che possono uscire anche i primi italiani dal valico di Raffa, quindi noi dal rispetto umanitario siamo il paese che ha mandato anche più aiuti come come è stato ai palestinesi, sono arrivati a 230 che grazie al lavoro anche della nostra ambasciata al Cairo, hanno consegnato un aeroporto del Sino, la mezzaluna rossa egiziana, questi beni di aiuto alla popolazione palestinese, quindi noi siamo assolutamente favorevoli a che ci possano essere delle pause nei combattimenti per aiutare la popolazione civile che nulla abbiamo fatto fare con questa guerra, sentite il collega Salvini, verrà anche lui a Lucca?